Vuoi imparare l'assolo di Against All Lords di Phil Collins? Te lo spiego in questo video. Ciao, io sono Maurizio e oggi ti spiego l'assolo di Gerard Albright su Against All Lords di Phil Collins. La prima cosa che ti chiedo però è iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul polsantino rosso in basso a destra. Con scritto iscriviti, è molto importante per chi mi permette di produrre nuovi video. Metti un bel like e attiva la campanella delle notifiche. Against All Lords è un brano bellissimo di Phil Collins, un classico della ballata pop mondiale 1984. Nella versione originale non c'era il sax, ma nel live del 2004 invece abbiamo un bellissimo assolo di sax di Gerard Albright. Questo assolonista mi piace molto, mi piace tantissimo il suo figlio pop con delle influenze dallo smooth jazz. Ti consiglio di ascoltare il suo primo disco da solista che si chiama Between Us del 1987. Oltre a una grande produzione da solista, Gerard Albright ha accompagnato molti, molti, molti cantanti in giro per il mondo, tra cui appunto anche Phil Collins, ma non dimentichiamoci la lunga collaborazione con Whitney Houston. Ma entriamo nel vivo dell'assolo. Allora, la tonalità è un po' particolare, è una tonalità in mi bemolle minore, per essere un brano di musica pop è una tonalità un po' particolare. Però noi con il sax contro alto siamo avvantaggiati perché per noi è un semplice Do minore. Andiamo a vederci però nel vivo questo assolo. Allora, la prima cosa che dobbiamo notare è la velocità, si tratta di un brano molto lento, stiamo sui 56 bpm, è proprio una ballad. Quindi, a parte il volume generale che è sempre fortissimo perché impiega il sax alto in un registro medio-acuto-sovracuto, Allora, a battuta 1 abbiamo innanzitutto il fortissimo iniziale molto importante che lo porterà avanti per tutto l'assolo, poi abbiamo due portamenti sui due Sol e sul Fa e sul Sol il vibrato. A battuta 2 iniziamo subito con una acciaccatura, si bemolle Do, poi abbiamo un bending sul Do e poi di nuovo il vibrato. La battuta 3 è quella un pochino più complicata perché inserisce varie tecniche, tra cui appunto lo snare all'inizio della battuta, il vibrato, questo Fa frontale alla Gerald Polbright, che è proprio una posizione sua dove utilizza il tasto 2, il tasto X, il portavoce, 4, 5, 6 e e bemolle. E l'effetto che si crea è un Fa molto strizzato, quasi glissato ed è questo qua. Proseguo con il vibrato e va avanti. Nella battuta 4 abbiamo il primo sopravvuto. Come si prende la bemolle o Sol di Asis? Io lo prendo così. Portavoce 1, 4 e Tc. Di nuovo il passaggio con il Fa alla Gerald Polbright e il Mi bemolle. Tutto questo passaggio qui e anche l'inizio della battuta dopo va fatto con il Gro, quindi questo La bemolle, Fa e Mi bemolle si suona così. Quindi a battuta 5 abbiamo il vibrato, un mordente che impreziosisce la linea melodica e andiamo all'ultima battuta dove abbiamo il sovravvuto più alto, il si bemolle sovravvuto. Allora io il si bemolle sovravvuto normalmente lo prendo con il portavoce e con il tasto 3, però siccome si ha un volume fortissimo risulterebbe un pochino calante, allora io utilizzo anche il 4 e il 5, quindi in questo modo, per poi concludere di nuovo sul sovravvuto La bemolle ed è veramente l'ultima battuta dell'assolo. In descrizione ti metto il link per scaricare lo spartito e il link per sentire anche l'assolo di Gerard Polbright dal vivo, è veramente notevole. Io ribadisco sempre questo concetto, ossia l'importanza di quello che nello spartito musicale non viene scritto, cioè tutto quello che non viene scritto nello spartito musicale ma che poi i più grandi eseguono e noi possiamo apprendere da loro questi grandi segreti, queste cose che rendono emozionante la musica che suoniamo, ci da un grande aiuto. Se ti piace questo approccio scientifico, lo studio del sax, dove nessuna cosa è lasciata al caso, dove ogni piccolo dettaglio deve essere messo in luce e studiato in modo tale da creare le fondamenta del tuo suonare bene il sax, allora clicca il link in descrizione e studia con me clicca qui. Se abbiamo un forno metterai la tua email, il tuo nome, un breve messaggio io ti ricontatterò, potremo fissare un appuntamento dal vivo ma se siamo lontani anche su Skype oppure scrivi su WhatsApp o chiamami al 331-270-188. Fammi sapere anche poi nei commenti se ti è piaciuto questo modo di suonare, questo modo di approcciare, se ti piace Gerardo Albright oppure se ti piacciono altri sassofonisti e se c'è qualche solo in particolare che vorresti affrontarsi. Ti ricordo i miei social mauriziolevesax facebook, mauriziolevesax col trattino basso instagram, la mia email mauriziolevesax.gmail.com, il mio sito internet www.mauriziolevesax.com e allora un caro saluto, arrivederci, ciao!